Una storia dai contorni tutti da chiarire che scuote il basso Molisse. La procura di Larino mantiene il più stretto riservo, bocche cucite. La vittima sarebbe innanzitutto un minorenne. Un ragazzino avrebbe subito abusi sessuali da un amico di famiglia. Tutto viene a galla in un locale. La vittima è con il padre. Al tavolo con loro si siedono altri conoscenti, ma è proprio alla vista di uno di loro che il ragazzino appare turbato e scosso. Questo atteggiamento insospettisce il papà che insiste con il figlio che a quel punto, in disparte e in preda a una crisi, gli svela tutto. In più di un'occasione, anche in strada, secondo il suo racconto, avrebbe subito abusi proprio da quella persona che è con loro a tavola. Il padre lo riaccompagna così a casa e torna al locale per chiedere spiegazioni proprio a quell'uomo. In un attimo il putiferio sarebbe intervenuta anche la polizia. Non soddisfatto però, qualche ora più tardi l'uomo raggiunge l'auto del presunto violentatore, parcheggiata e appicca il fuoco. Lo avrebbe anche picchiato di nuovo. Era forte la rabbia e la fame di vendetta. Avrebbe poi raccontato tutto alle forze dell'ordine, dicendo chiaramente di essere lui l'autore dell'incendio dopo le terribili confessioni del figlio. Il ragazzino è stato anche visitato in ospedale. La vicenda è molto delicata. Gli investigatori indagano senza tralasciare alcun elemento. Fondamentale è la tutela del minore. Per questo nulla trapela.